Spunta anche qualche napoletano. Ragazzi siete delusi perché il Napoli non è qui, però siete venuti lo stesso, come vai? Eh sì, ormai abbiamo prenotato, abbiamo già preso il biglietto e tutto, quindi abbiamo approfittato e siamo venuti per i giorni in vacanza qui. E vediamo lo stesso la finale, perché vinca il migliore. Da quel che sarebbe potuto...